Ciao amiche e amici, come state? State approfittando di questa fase 2 per fare qualche passeggiata fuori con i vostri bimbi? Avete notato come è cambiato il tempo e la natura intorno a noi rispetto a quando abbiamo iniziato a stare a casa? Prima era inverno e c'era freddo e c'erano pochi colori, adesso invece uscendo di casa abbiamo trovato la primavera con tanti fiori nuovi e colori intorno a noi. Oggi con voi voglio costruire qualcosa che ci fa rendere conto di quanto sia bello il passare del tempo e delle stagioni. Iniziamo prendendo delle farfalline e mettiamole in un piatto, prepariamo i colori a tempera e un bicchiere d'acqua. Coloriamo queste farfalle di arancione e di giallo perché ci serviranno per fare le foglie dell'albero dell'autunno. Una volta che abbiamo finito di colorare tutte le farfalline mettiamole da parte per farle asciugare. Prendiamo un altro piatto e coloriamo delle altre farfalline, questa volta col col colore verde, ci serviranno per l'albero della primavera. Prendiamo anche qualche farfallina di colore fucsia, questi saranno i fiorellini del nostro albero della primavera. Una volta finito facciamo asciugare anche queste. Adesso ci serviranno dei fusilli che useremo per fare i petali del girasole dell'estate, insieme a delle farfalle grandi. I fusilli avranno diverse dimensioni, scegliamo i più grandi e dipingiamoli di giallo, questi saranno i petali del nostro girasole. Prendiamo i più piccoli e dipingiamoli invece di marrone. Le farfalle possiamo dipingerle come vogliamo, io ho scelto il blu e il rosa. Una volta finito di dipingere tutto mettiamo anche questi ad asciugare. L'ultimo tipo di pasta che ci servirà sono gli anelletti per fare la neve dell'inverno, quindi li dipingiamo tutti di bianco. Quando avremo finito di dipingere anche questi mettiamoli da parte ad asciugare. Basta si sarà asciugata possiamo iniziare a fare i nostri quadri. Iniziamo con l'autunno, prendiamo il piatto in cui c'erano le farfalline e giriamolo dall'altra parte. Dipingiamo con la tempera il tronco di un albero e sui rami. Una volta finito prendiamo della colla liquida o anche stick se ce l'avete e iniziamo a metterla intorno ai rami. A questo punto possiamo iniziare ad attaccare le nostre foglioline intorno ai rami. Adesso facciamo lo stesso procedimento con le foglie della primavera. Giriamo il piatto, disegniamo anche qui il tronco di un albero con i suoi rami. Mettiamo la colla intorno ai rami e attacchiamo. Quando abbiamo finito, per fare il quadretto dell'estate prendiamo il piattino come abbiamo fatto con gli altri. Giriamolo e questa volta però disegniamo uno stelo con una foglia. sopra lo stelo mettiamo un po' di colla, così da attaccare i fusilli marroni. A questo punto mettiamo la colla intorno al centro e iniziamo ad attaccare i fusilli gialli. Attacchiamo in fondo al piatto anche le nostre farfalle e mettiamo tutti. Adesso prendiamo l'ultimo piattino, giriamolo e anche questa volta disegniamo il tronco di un albero. Mettiamo la colla tutto intorno e attacchiamo anche qui i nostri anelletti bianchi per fare la neve del nostro inverno. Quando saranno asciutti avremo la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Spero vi siete divertiti anche voi con i vostri bimbi a sporcarvi le mani e a guardare come il tempo cambia i colori intorno a noi. Alla prossima!